A Domodossole caccia gli autori dei danneggiamenti a carico dei freni di alcune autovetture parcheggiate in strada. È successo in via Pasolini, una traversa di via Veneto non lontano dal centro cittadino. Il primo episodio è stato denunciato la scorsa settimana, il secondo nel weekend del fatto sono state regolarmente informate con denuncia alle forze dell'ordine. Il primo episodio è successo nella notte tra mercoledì e giovedì della passata settimana. Vittima della manomissione è la vettura di una signora che abita in zona. Si è accorta del malfunzionamento dell'impianto frenante al mattino quando si è messa al volante per raggiungere il posto di lavoro. Il secondo caso è stato accertato ieri, con ogni probabilità il danno però è stato effettuato allo stesso giorno, ma la signora si è accorta di quanto è successo solo domenica nel momento in cui si è messa in auto. Non è la prima volta che simili episodi si registrano in città. era già successo qualche anno fa. Poi il silenzio, ora di nuovo estando ai rumors, cittadini non sarebbero quelli denunciati gli unici casi. Sul fatto indagano i carabinieri di Domodossola, i quali la coppia domese, su indicazione del proprio meccanico, si è rivolta per sporgere denuncia. Intanto dell'episodio è stato informato pure con una mail il sindaco di Domodossola. I residenti di via Pasolini lamentano la mancanza di telecamere in zona, fatto che ha permesso a loro dire ai vandali di agire in modo indisturbato. Pronta in mattinata è arrivata la replica da Palazzo di Città. Al momento, ha risposto il primo cittadino domese, la zona non è collegata alla rete di fibra ottica comunale e di conseguenza non risulta possibile l'installazione di telecamere di videosorveglianza.